Ho deciso di frequentare il primo corso di progettare l'illustrazione 1 per poi continuare con il corso di progettare l'illustrazione 2 perché ho iniziato a scoprire il mondo dell'illustrazione per l'infanzia dopo che ho avuto una bambina e attraverso i suoi occhi ho visto cose immaginabili. Nonostante io avessi un background artistico il primo corso mi ha dato la possibilità di approfondire tutte le tematiche per la comunicazione visiva e nel secondo corso tutto quello che riguarda l'illustrazione editoriale per l'infanzia concettuale e tutte le tecniche per la realizzazione delle immagini. L'aspetto più utile del corso per ricevere stimoli professionali è stato il potermi confrontare quotidianamente con dei professionisti del settore, con le loro conoscenze di altri artisti per potermi creare una biblioteca visiva e soprattutto la loro esperienza professionale. Per essere un buon professionista oggi è importante seguire dei corsi di formazione per poter essere aggiornati e completi. Questo corso mi ha fornito tutti gli strumenti necessari per poter essere un ottimo professionista nel mondo del lavoro. Certamente consiglierei di seguire questo corso a chi è interessato a intraprendere la professione dell'illustratore. Le mie aspirazioni per il futuro sono quelle sicuramente di vedere pubblicato qualche mio libro e nel frattempo mi muovo mandando portfogli ai editori e partecipando a dei concorsi avendo ormai le basi per poter lanciare la mia carriera.